Ed eccoci qua ritornati ragazzi su Phynex at Illumini All'inizio ho scritto nel titolo Phynex in Illumini, devo ancora correggere sto errore e me ne pento Allora, prima di tutto... Aspettate un secondo, devo abbassare un attimo il volume Cazzo Cazzo, sei buggato! No! No, sei buggato! Sei buggato, no! Ok, va bene Allora, nella terza notte credo che ci sarà Illumini Illumini Mentre nella seconda notte abbiamo incontrato Phynex che stavano quasi per morire per colpa sua Quindi facciamo finto di niente Vediamo cosa possiamo fare Vediamo se riusciamo a finire sto gioco Ok Eccolo che è arrivato Eccolo che è arrivato Bene, è arrivato... Ecco Se sono andati tutti via Mi sa che sono andati... È vero che questo qua corre Ok Ok, vanno sempre nelle stesse posizioni Poi arrivano da me Giustamente Dall'altro ragazzi Porca troia Oh mio Dio Oh mio Dio Cosa ho appena sentito Ho sentito un tosse Oh no! Dove cazzo è andato? Questo dove va? È andato uno in bagno Ah, cioè Uno è andato in bagno L'altro... Oh cazzo Heck What's on your head? Oh Porca put... No No Non avevo vino Non me l'aspettavo mai questa cosa Non me la... No Sì No 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 Oh mio Dio Oh mio Dio Cosa cazzo? Lo f... E se finisco qua la serie? E se non giocherei mai più a Final Exet Illumi Dopo quel jumpscare che ho preso? No Questa devo... No Questa devo finire per forza Ok Tanto la... Le 12M non si spostano Sti pezzetti Allora Io devo controllare Ah devo aver giusto Perché devo controllare anche quello dei condotti Se arriva quello Illumino nei condotti Io voglio vedere il video Voglio vedere il video come... Voglio... No Io Io lo voglio Voglio rivedere sto video Voglio rivedere la parte del jumpscare che ho Vado No No Io No Io non ci gioco più a sto gioco No No A parte gli scherci è bello come gioco Ecco E si è spostato sto pezzo di me No 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 Stiamo sprecando batteria No Oddio che cazzo era questo Oh no Oddio si è baccato No No Eh ho sbagliato Minchia Io c'ho paura No Vaffanculo Grazie Perchè un altro C'è un fungai Non c'è un fungai che mi da consigli Tipo No Non c'è un fungai Cazzo Benvenuto Benvenuto Ok Alle punte di mattina si muovono Sotto Madonna mia Non so il cuore che mi gela Dopo Dopo quel jumpscare mio Non ce la farò mai Non ce la farò mai Di sicuro Di sicuro Non ce la farò mai Perchè rimarrò bloccato in quel gioco Rimarrò bloccato Di sicuro non rimarrò bloccato Oddio Si è ci ha mosso Sto pezzo di merda So che passa Ogni volta Ok Dovreve fare Non so se riesco a farci Fino alla quinta notte Perchè sarà impossibile Allora Madonna Ho paura eh Ho paura Prego No No Oddio Porca troppa Oh mio dio Oh mio dio Cosa c'è Cosa c'è No 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 Ok stiamo facendo bene, ce la possiamo fare, oh mio dio, non so se ce la faccio però. Ok, lui si è mosso. Se sente dei rumori vuol dire che qualcuno è di conto. No. Mi sa che si muove questo. Ragazzo ho le mani fredde. 5 di mattina, devo resistere. 5 di mattina, 5 di mattina devo resistere. Ok forse ho capito, ho capito il gioco, ho capito tutte le meccaniche dei personaggi. 5 di mattina, per piacere. No. No, cazzo. No, ho sbagliato. Ho sbagliato, ho sbagliato, ho sbagliato, ho sbagliato, ho sbagliato. No, io non ci vado la quarta notte, no, no. E va bene, concludo questo episodio. Cioè, non ce la farò mai a farcela anche nella quarta e nella quinta notte. Però ci riuscirò, ce la farò, ce la farò in tutti i modi possibili. Spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un like e un commento, iscrivetevi al canale, seguitevi sui social. E madonna mia, ci vediamo nel prossimo episodio di questa serie di Illumini. E niente, ci vediamo. Ciao ragazzi.